Credo di poter dire un incontro molto positivo. Sono stati affrontati tanti temi relativi al futuro di Roma. Devo dire che tutti i candidati hanno risposto con chiarezza e con grande attenzione alle tematiche poste. Lo considero un incontro estremamente positivo. Noi abbiamo voluto organizzare questo incontro perché la sensazione che avevamo è che Roma fosse uscita un po' dall'agenda della campagna elettorale. E sappiamo benissimo che il futuro sviluppo di Roma dipende fortemente dall'impegno del governo e del Parlamento a fianco degli enti locali. Mediante un insieme di interventi che consentano di rilanciare l'infrastruttura e il territorio romano. E devo dire che abbiamo avuto da tutti i candidati delle risposte coerenti, chiare e determinate. Poi è ovvio che quello che succederà sarà un'altra cosa.